Il nostro corso è il nostro corso. Il nostro corso è il nostro corso. Per questi giovani c'è però l'opportunità di rimettersi in gioco attraverso i percorsi formativi biennali di istruzione professionale, gli IEFP. Un'alternativa alla scuola superiore è uno strumento professionalizzante, un percorso completamente gratuito che rientra nell'ambito di giovani sì, finanziato dalla Regione Toscana. Attraverso una delibera dell'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini, approvata in giunta, la Regione ha messo in campo ulteriori risorse economiche per 1.700.000 euro per i corsi IEFP. Sì, per noi uno degli obiettivi principali appunto è quello di non lasciare nessuno indietro, soprattutto le giovani generazioni. E quindi penso al tema dei NIT, le ragazze e ragazzi che non studiano il lavoro, noi dei dropout. E quindi noi proprio per questo abbiamo lavorato costantemente in questi anni, anche nella precedente legislatura. Ci tengo a ricordare un dato, l'abbandono scolastico nel 2019 era sceso al 10,6% contro il 13,8% del 2014. Questo proprio come frutto di politiche che avevano a lungo combattuto la dispersione e l'abbandono scolastico per far sì che le nostre ragazze e i nostri ragazzi rientrassero in un percorso formativo e poi potessero inserirsi nel mercato del lavoro. Sono circa 80.000 in Toscana i giovani che non studiano e non lavorano e la pandemia di coronavirus rischia di peggiorare la situazione. In questo senso la Regione ha voluto riportare il prima possibile i ragazzi delle superiori a scuola in presenza. La scelta che abbiamo fatto di riportare in presenza le ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, una scelta sicuramente coraggiosa ma che abbiamo reputato necessaria perché sappiamo bene quanto la didattica a distanza non possa sostituire per lungo periodo la didattica in presenza. Poi sempre come strumento contro la dispersione e l'abbandono scolastico voglio ricordare un altro fuori all'occhiello delle nostre politiche regionali che sono i PETS, i progetti educativi zonali. Ecco, con i PETS si lavora appunto contro dispersione, contro abbandono, ma si lavora anche per una scuola che sia davvero inclusiva di tutte e di tutti, per i ragazzi che arrivano da altri paesi, che parlano un'altra lingua, per le ragazze e ragazzi con disabilità. Noi davvero vogliamo che la scuola sia il luogo delle opportunità e dell'uguaglianza per tutti e per tutti. Attraverso i percorsi di istruzione e formazione professionale si ottiene una qualifica professionale attraverso un percorso che dura due anni e distribuito in oltre 2000 ore di corso totalmente gratuito con lezioni teoriche, attività di laboratorio e altre in alternanza scuola-lavoro. E per far conoscerlo ai ragazzi e alle famiglie la regione toscana ha pensato ad una campagna ad hoc. Proprio rivolta ai NIT e ai Dropout, per far sentire che in un momento anche difficile come quello che stiamo attraversando il nostro impegno per non lasciare indietro nessuno ovviamente non diminuisce ma anzi aumenta, si rafforza e quindi vogliamo anche usare i nuovi strumenti, vogliamo utilizzare i social perché sappiamo bene quanto attraverso questi molto spesso i nostri ragazzi e le nostre ragazze riescano a recepire informazioni importanti per conoscere tutte le opportunità che il nostro territorio offre. Vogliamo far sì che davvero si migliori anche quel disallinamento che ancora esiste tra le competenze che escono dai percorsi scolastici, dai percorsi universitari e poi le esigenze delle aziende del nostro territorio. Vogliamo formare ragazze e ragazzi che poi riescano a trovare un lavoro qua nel nostro territorio e appunto a far aumentare anche la competitività e il grado di innovazione delle nostre realtà economiche. I corsi IEFP a cui è possibile iscriversi sono 67 su tutto il territorio regionale. I percorsi in avvio coprono diversi ambiti professionali come ristorazione e trasformazione agroalimentare, produzioni metalmeccaniche, benessere, grafica, impiantistica, agricoltura, distribuzione commerciale, logistica e trasporti. Devo dire che i riscontri che abbiamo avuto soprattutto in termini di occupabilità dimostrano quanto chi esce da questi percorsi poi riesca a trovare lavoro e molto spesso lo faccia qua nel nostro territorio perché noi dobbiamo anche combattere un po' quella fuga di cui invece si sente molto spesso parlare perché da un lato ci sono appunto ragazzi che non studiano, non lavorano, non trovano lavoro ma dall'altro anche giovani generazioni che sono costrette ad abbandonare il nostro territorio e talvolta anche il nostro paese per andare altrove. Invece superare quel disalinamento, quel mismatch che ancora esiste tra domanda e offerta è necessario anche per far sì che poi la Toscana sia davvero una terra di opportunità, una terra dove si decide di restare, dove si trovano i servizi per poter restare e dove ovviamente il lavoro è al primo posto. Per partecipare ai percorsi formativi biennale di istruzione professionale è necessario iscriversi al programma Garanzia Giovani presso i centri per l'impiego. Per scoprire quali sono i corsi EFP biennali basta consultare la pagina dedicata sul sito di Regione Toscana un modo per rimettere in gioco i giovani che magari non avevano scelto il percorso di studi più giusto per le loro attitudini. La mia esperienza è stata iniziare da una scuola dove purtroppo non ero capace di stare sui libri e sono arrivato ad avere un contatto diretto con il lavoro e a entrarci fortunatamente grazie a Garanzia Giovani. Adesso faccio il fabbro, da una scuola dove io avevo iniziato come idraulico mi sono trovato bene con la saldatura non sapendo di questa cosa e anche l'insegnante se ne è accorto e diciamo che ora lavoro e mi trovo davvero bene. I corsi EFP per il recupero della dispersione scolastica hanno una durata di due anni dopodiché si ottiene la qualifica EFP e sarà così possibile entrare direttamente nel mercato del lavoro oppure continuare il percorso formativo frequentando il quarto anno per il conseguimento del diploma o continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere il diploma di scuola secondaria superiore. Abbiamo puntato molto sui percorsi di istruzione e formazione professionale, biennale, triennale, quarto anno perché sappiamo bene che questi sono percorsi talvolta alternativi al percorso scolastico per così dire classico che consentono ai drop out di poter avere però una qualifica e soprattutto di inserirsi poi nel mercato del lavoro. Noi davvero vogliamo far sì che anche il nostro sistema economico produttivo cresca perché crescono le competenze delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e vogliamo davvero aiutarli affinché loro possano sentirsi realizzati e possono ognuno per i propri desideri, per le proprie attitudini davvero trovare la loro strada. Ma sono molteplici gli interventi che la Regione Toscana porta avanti finalizzati al diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica come gli ulteriori 2 milioni e 500 mila euro inseriti nel pacchetto scuola per andare incontro alle famiglie con redditi più bassi ma anche all'orientamento dei giovani nella scelta degli studi contro la dispersione scolastica. Questo è un tema fondamentale perché far sì che le ragazze e i ragazzi facciano la scelta giusta e quindi scelgano prima di tutto abbiano contezza di tutte le possibilità di istruzione e di formazione che la Regione Toscana, che in Toscana sono a disposizione. Quindi abbiamo puntato su un percorso informativo per i ragazzi, le ragazze e anche per le loro famiglie. Sappiamo bene che il successo scolastico molto spesso dipende anche dal fare la scelta giusta in questo senso. Ricordo anche l'iniziativa che abbiamo presentato alcune settimane fa insieme al Presidente Gianni e insieme a Lorenzo Baglioni. La Toscana vuole puntare sui giovani e le loro attitudini attraverso questo tipo di percorsi formativi anche in vista della nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027 e della Next Generation Europe. Ci auguriamo di poter orientare davvero ai giovani, a favore dei giovani, le risorse che arriveranno anche dal Next Generation. Così si chiama e quindi già il nome dovrebbe indicarci che una parte importante di quelle risorse, io mi auguro, possano essere destinate davvero a interventi che sostengono le giovani generazioni nei percorsi di istruzione, di formazione e poi di inserimento all'interno del mercato del lavoro. Io credo che questo sia fondamentale. Come Regione Toscana abbiamo avanzato al Governo le nostre proposte in questo senso e ci auguriamo che possano essere accolte e quei fondi possano essere destinati soprattutto a politiche di questo tipo. Grazie a tutti i nostri spettatori